e poi la palla è il recupero perfezionato da Simon ancora Sanders questa volta non può sbagliare bravo Simon bravo Sanders uno degli ex di questa partita Simon in angolo per Fontecchio e quello coach è il marco di fabbrica questa volta Fontecchio qui menette costrette il time out con il fedaway ma gliene incoglie perché non riesce a trovare l'appuntamento con il canesso dunque rimane a più 6 Milano Radulizza la schiacciata molto bravo Simon entrata e poi passaggio gancio proprio a Radulizza la parabola perché arrivavano le manone protese di Ricky Ickman Simon il pallone ancora per Radulizza due vostre l'asse Simon Radulizza quattro punti per Milano la conclusione Simon arpiona il rimbalzo una magia di Cruno Simon per Dada Pastor